Il fatto è che vorrei dirti tante cose, dimostrarti quanto sei importante per me. Ho solo paura di annoiarti, che non mi ami più, sono una persona paranoica, ho mille difetti e continuo a chiedermi come una persona come te, mi stia ancora vicino, ho la costante paura che tu possa andartene per qualche mio atteggiamento sbagliato. Forse perché non so bene come comportarmi dato che non ho mai provato ciò che provo ora. E ho difficoltà ad esprimermi perché credimi dentro di me c'è un mondo di emozioni, di sensazioni e tu ne sei, la protagonista. Il fatto è che vorrei dirti tante cose, dimostrarti quanto sei importante per me, ho solo paura di annoiarti, che non mi ami più, sono una persona paranoica, ho mille difetti e continuo a chiedermi come una persona come te, mi stia ancora vicino. Grazie.